La prima settimana è andata secondo me molto bene, ho conosciuto grandi giocatori, grande gente e sono molto contento che posso allenare e giocare con questi giocatori. Penso che sono pronto per giocare anche la partita grande come contro la Juve. Poi è vero che ho giocato due volte contro la Juve, quindi conosco questa squadra bene e sì, io penso che sono pronto per giocare. La prima volta quando ho sentito che c'è possibilità di venire a Roma, non so se dico giusto, ma ho guidato la macchina e mi ha chiamato il mio procuratore che è questa possibilità e dovevo fermare subito perché sono stato molto nervoso e adesso sono molto contento che posso essere qua. Grazie a tutti.